Sì Allora sì No, l'hanno ucciso, l'hanno ucciso L'hanno ucciso il partner, sì Fettini Caldi sarebbe Nooo, son loro L'ho ucciso Ninja di Foggia, sono italiane anche questi, ammazziamoli Crackado, Billy Vado Ammazziamo questi figli di puttana, hanno ammazzato i nostri amici I miei carli crack non si toccano Attenta, gioca safe 34 34 Hanno toccato Gente che non va toccata ragazzi No, non va bene Non va bene 27 26 99 Proiccio Sì 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 Sì